I carabinieri di Cerignola, con l'ausilio di un elicottero e dei cani antidroga del nucleo cinofili, hanno effettuato un controllo straordinario dei territori dei comuni di Cerignola, Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia. Nel corso dell'operazione sette persone sono state arrestate e tre segnalate alla prefettura di Foggia, quali assuntori di ascisce e cocaina. Sono state eseguite dieci perquisizioni domiciliari, controllate 87 persone e 33 autovetture, tre delle quali sequestrate per mancanza della copertura assicurativa. A Cerignola è finito in manette il ventenne Giovanni Di Giglio, sorpreso mentre cedeva cocaina a un 59enne del posto. Il giovane precedentemente era stato trovato in possesso di 800 grammi di hashish, 200 grammi di marijuana e 9 di cocaina. Ancora a Cerignola è stato arrestato il 47enne Donato Di Biase, pluripregiudicato locale. L'uomo, minacciandoli di morte, aveva aggredito i carabinieri che stavano eseguendo una perquisizione domiciliare nella sua abitazione. Il malvivente dovrà rispondere di resistenza, oltraggio e minaccia pubblico ufficiale. Sempre a Cerignola, per evasione dai domiciliari, è stato fermato il 44enne pregiudicato Francesco Musicco. L'uomo era ai domiciliari per furto. Per furto di energia elettrica, invece, è finito ai domiciliari il 62enne Michele Seccia. L'uomo aveva creato un allaccio abusivo alla rite elettrica, rubando circa 2.500 euro all'Enel. stesso reato, quello commesso dalla 49enne Luta Rodita a San Ferdinando di Puglia. La donna, tramite un allaccio abusivo, aveva consumato circa 5.000 euro di energia elettrica. A Trinitapoli, infine, è stato tratto in arresto il 31enne Roberto Sisto, un progiudicato locale. Sisto dovrà scontare la pena residua di due anni e tre mesi di reclusione per una rapina commessa a Trinitapoli nel maggio del 2014.